amici di youtube ben trovati da marco liguori ore di paura per mara venire in questo video sveleremo cosa sta succedendo alla conduttrice di domenica in di recente le condizioni di salute di zia mar hanno preoccupato l'italia intera e prima di saperne di più vi ricordo che a 400 mi piace pubblicherò immediatamente un nuovo video non è un periodo semplice per mara venire soprattutto in relazione ai suoi problemi di salute sappiamo che nei giorni scorsi zia mara si è sottoposta alla quinta operazione nel giro di pochi mesi mara venire ha dovuto risolvere un problema alla retina pare che mara venire abbia subito una seria emorragia alla retina dell'occhio destro che le ha tolto la vista costringendola ad un'operazione di urgenza che ha ripetuto per altre due volte ore di paura e preoccupazione tra i tanti fan che tuttavia sono stati confortati da zia mara che ha anche ringraziato l'equip dei medici che ha svolto il delicato intervento monitoreremo le condizioni di salute di zia mara ovviamente le auguriamo di riprendersi presto e le auguriamo che tutto ciò che sta vivendo possa essere ricordato alla stregua di un brutto sogno forza mara venire amici di youtube io vi ringrazio per l'attenzione lasciate il vostro commento iscrivetevi al canale condividete questo video seguitemi anche sul secondo canale di marco liquori il canale dei video di cronaca seguitemi anche sul nuovissimo canale di psicologia marco liquori psicologia crescita personale ciao a tutti grazie a tutti